The Building, hotel 4 stelle al centro di Roma, presenta Gourmans, ristorante immerso in un'atmosfera avvolgente e suggestiva, dove gustare il meglio dei sapori mediterranei. Un'ampia scelta di cucina internazionale ed etnica, con materie prime di ottima qualità, magistralmente interpretate dallo chef Andrea Kossalter. Ristorante Gourmans, presso Hotel The Building, in via Montebello, 126, Roma. Ristorante Gourmans, presso Hotel The Building, in via Montebello, 126, Roma. Roma Multiservizi SPA, da oltre 25 anni, garantisce altissimi standard qualitativi e di sicurezza per il settore pubblico e privato. Operiamo nelle scuole, negli asili, in aree verdi ed ed edifici con servizi di sanificazione, assistenza, pulizia, igiene, manutenzione, sicurezza e agibilità. Siamo un'azienda leader nei servizi integrati con il 97,5% di soddisfazione del cliente. Roma Multiservizi SPA, la nostra professionalità al vostro servizio. Benessere, ovvero stare bene, è una cosa assolutamente fondamentale, soprattutto in questo periodo storico. È lo stato emotivo, mentale e fisico che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società. Tre sono gli elementi fondamentali per ripristinare o mantenere uno stato ottimale. Le tre A del benessere sono alimentazione, attività fisica, atteggiamento mentale. Ciascuno di questi elementi è funzionale a se stesso, ma se combinati, insieme contribuiscono a generare uno stato di salute psicofisica assolutamente importante e fondamentale. E soprattutto la più grande, la più importante, la prima barriera contro le malattie, lo diciamo sempre. La cosa fondamentale è cercare di stare, non è semplice, lo so, in questo periodo, però provare a stare sereni e soprattutto basici da un punto di vista alimentari. Quindi cercando di eliminare tutti quelli che sono gli stati infiammatori, che sono qualcosa che indebolisce il nostro organismo e conseguentemente consente poi alle malattie in modo trasversale di entrare in modo assolutamente aggressivo. Parleremo di questo, ma anche di molto altro, con gli ospiti dell'odierna puntata di Terzo Millennio. Dal bentornato al professor Antonio Cassone, microbiologo. Professore, bentornato, è un piacere. Ben rivisti, grazie. Dal ben arrivato a Massimiliano Febbi, professore universitario e fisioterapista. Grazie per l'invito. Anche il suo mestiere è fondamentale, poi approfondiamo perché insomma anche lì c'è tanta roba. La dottoressa Lucilla Ricottini, medico-chirurgo, specializzata in pediatria, omeopatia e nutrizione. Bentornata. Grazie. Tra l'altro lei ha un modo molto particolare. Se vogliamo far vedere subito il libro della dottoressa Ricottini, perché ha fatto un libro che parla dei biotipi. Ecco, il metodo dei biotipi dinamici. Ne abbiamo parlato in modo importante. È un metodo semplicemente che va a lavorare sulla specificità e sull'unicità dell'essere umano. È qualcosa di molto bello, molto particolare, molto unico, come siamo noi, che mi sembra fondamentale. Il professor Giuseppe Cerasari, medico-chirurgo, specialista di malattie infettive. Ben arrivato. Grazie. Più tardi poi cercheremo di capire anche varie cose con lei e andremo a vedere un libro che lei sta tirando in campo in questo momento, diciamo in modo assolutamente importante. E do anche il ben arrivato ad Angelo Diario, direttore sportivi per Roma. Grazie, piacere. È un po' di sport fondamentale, diciamo, alimentazione, attività fisica, atteggiamento, fa parte dell'E3A. Allora, io inizierei subito con il professor Cassone, perché nei prossimi giorni si attende, almeno questa è la comunicazione ufficiale che ci manda il mainstream, un nuovo record per i contagi di Covid. Pare che se arrivi verso quota 200.000. Io rido per non piangere, perché insomma, più o meno ogni anno, da due o tre anni a questa parte, risentiamo questi numeri impietosi. Come mai le persone ultravaccinate si infettano più o meno quanto quelle poche o non vaccinate, professore? Prima di tutto vorrei chiarire che i numeri che lei ha detto sono così. Non so esattamente da dove provengano. Se noi vediamo i dati che abbiamo a disposizione oggi, diciamo nell'ultima settimana, c'è un trend in decrescita dei casi di contagio. L'indice RT, che è l'indice di trasmissibilità sul campo del virus, delle attuali varianti virali, è un indice che tende a scendere sotto uno. Quindi, diciamo, sotto la soglia epidemica. Quindi non c'è in questo momento un'espansione. Certo, abbiamo il problema che i casi reali, in realtà, mi scusi, il doppio termine, non li conosciamo bene. Mi perdoni, professore, il dato che noi abbiamo è un dato più o meno di quelli che succede ormai spessissimo che le persone si ammalano di Covid, si fanno il test a casa, stanno cinque giorni e riescono. E quelli non entrano poi nei dati ufficiali, no? Esattamente. Quindi il problema è che seguire i dati in questo modo non è molto istruttivo, purtroppo, oggi. Quello che uno deve seguire è il problema della ospedalizzazione, il problema della terapia intensiva, cioè i casi che comportano una reale malattia, oltre all'infezione. E anche in questo campo, gli ultimi dati ci dicono che sono in diminuzione le tendenze alla ospedalizzazione. Quindi l'aumento di ospedalizzazione in realtà non c'è, c'è una diminuzione e c'è anche una diminuzione dell'occupazione delle terapie intensive. Quindi i trend sono questi, ma non sono solo in Italia, sono un po' in tutta Europa, eccetto la Spagna che ha avuto per qualche motivo, che ancora non è molto ben noto, un aumento reale dei contatti. Potremmo dire, professore, mi perdoni, che in realtà in qualche modo il vaccino poi ha funzionato, perché abbiamo visto sui giornali, sui giornaloni, questa strana anomalia cinese, no? Dove hanno fatto questo lockdown durissimo per due anni, due anni e mezzo, poi improvvisamente la gente non ne poteva più liberi tutti. E lì non si capisce bene quello che sta succedendo, i dati, cioè non riusciamo a capire. Sappiamo semplicemente che è un vaccino sicuramente meno efficace del nostro. Sì, è vero. Comunque io vorrei riprendere la seconda parte della sua domanda perché è un punto fondamentale. Come mai noi abbiamo che i vaccinati si infettano oggi più o meno quanto i non vaccinati? Questo è il problema. Cioè noi abbiamo un vaccino, abbiamo fatto un vaccino, soprattutto i vaccini a mRNA, molto usati in Italia, nell'Occidente in generale, che sono potenti vaccini contro la malattia, soprattutto contro la malattia grave, quello di cui parlavo prima, cioè quello che ti chiede che tu vai a finire in ospedale e fai tutto quello che devi fare e rischi anche per certe persone fragili il decesso. Il vaccino non è ugualmente efficace, bisogna dirlo con chiarezza dopo tre anni, ero scritto su un articolo su Repubblica recentemente, il vaccino non è ugualmente efficace per quanto riguarda la protezione dell'infezione, cioè il fatto che il virus ti infetta, entra nel tuo organismo, che è una cosa primaria ma è scollegata in molti soggetti dalla malattia, sappiamo bene sin dall'inizio che molti soggetti sono o asintomatici o con poca sintomatologia. Quindi questo è il problema che abbiamo. L'avamo sin dall'inizio, è stato messo in risalto sin dall'inizio che il vaccino induceva la produzione di anticorpi che neutralizzavano l'infezione, ma questa neutralizzazione durava poco, questi anticorpi duravano poco, mentre la produzione della malattia, se hai fatto il booster, c'è tre dosi, dura ancora oggi, meglio ancora se hai fatto la quarta dose. Allora questo è il dilemma di questo vaccino, per cui mi sto spremendo per cercare di far sì che si faccia nuovi vaccini. Però, parliamoci chiaro, il merito di evitare la malattia grave è un grande merito, dobbiamo riconoscerlo. Il problema di evitare l'infezione, da un lato lo si può fare con gli strumenti di protezione individuale, che ancora in certa occasione dobbiamo usare, e dall'altro purtroppo richiederanno l'uso di vaccini, specialmente vaccini mucosali, cioè vaccini che creano una barriera all'infezione da parte del virus nelle mucose nasali e orale. Ecco, questi vaccini si stanno studiando, ancora non ce l'abbiamo. Quindi in questo momento si spiega tutto così, tenendo ben presente che l'espansione delle varianti e delle mutazioni che c'è stata nel tempo, proprio perché l'infezione non è stata fermata dai vaccini, c'è stata questa evoluzione del virus che ha portato a varianti virali sempre più resistenti all'infezione, ma non a causare più malattie in realtà, anzi l'ultima variante Omicron e le sottovarianti sono meno patogene, perché noi abbiamo molti sistemi di difesa, di cui uno di cui si parla poco, è molto importante, c'è la presenza di cellule linfocitarie attivate che sono in grado in realtà di controllare il virus, di impedirgli di andare profondamente negli organi e di proteggerci dalla malattia grave. Quindi non solo gli anticorpi di cui si parla molto, abbiamo altri sistemi di difesa. Quindi, sommarizzando, con questo vaccino buono per poterci dalla malattia grave, siamo in qualche modo garantiti da non prendere questa malattia grave, però non siamo garantiti dell'infezione anche con sintomi leggeri. I nuovi vaccini probabilmente potranno anche sopperire a questa disamina. Però si parla di dose ogni 3-4 mesi, è giusto? È un trend? C'ha senso? No, guarda, non è giusto. Io lo dico con molta chiarezza. Noi non possiamo seguire una strategia vaccinale che ci porta a 3-4 mesi a inseguire ogni variante che ogni 2-3 mesi cambia. Oggi abbiamo due nuove varianti, la Kraken e la Ostrus, che sono due varianti, soprattutto in Inghilterra e da altre parti, che si sono succedute a distanza di mesi e sono diversi per qualche mutazione. Non possiamo fare questo allora, anche perché è dimostrato, abbiamo la gente, non accetta, non è compatibile un sistema di vaccinazioni ogni 3-4 mesi. Quindi il problema in questo momento è in qualche modo accettare la diffusione di varianti virali poco patogene, tutto sommato, e proteggere i fragili, soprattutto quelli che vanno più facilmente in ospedale e possono avere gravissima sindrome e quindi anche decesso. e questo vaccino che abbiamo, dai, sei fatto la... Non la sentiamo più o meno. Il potere di poter difendere dalla malattia grave. Se ne fai una quarta, va bene, ma poi basta. Noi dobbiamo mirare a fare un booster o con un vaccino migliore oppure una volta all'anno con questo. Noi possiamo andare avanti ogni 3-4 mesi. Tanto la gente non lo fa. Una cosa interessante, professore, poi vorrei anche sentire Cerasari su questo. Parlando sempre di vaccini, c'era un grande entusiasmo attorno al vaccino Janssen contro l'HIV, giunto alla terza fase di sperimentazione, ma purtroppo le attese sono in parte state deludenti. Ha infatti bloccato anche diciamo Johnson & Johnson la sperimentazione. Che cosa succede adesso? Perché in realtà si parla pochissimo, dobbiamo dirlo, di questa malattia di HIV che invece è una malattia che ancora oggi uccide centinaia di migliaia di persone. Il problema è molto grave che non se ne parli. Cioè l'HIV sta con noi infetta, i casi sono tantissimi, abbiamo malattia ancora grave. Abbiamo certe terapie che sebbene eseguite contrastano la malattia, però certamente avere un vaccino, riuscire ad avere un vaccino che prevenga l'infezione, soprattutto, oltre che la malattia, sarebbe una cosa ideale. Sono 20 anni che ci stiamo cimentando con questo problema, ma si riesce poco. Molte volte mi chiedono perché si riesce poco, compreso l'ultimo della Johnson. Vedi, il problema dell'HIV, a differenza della SARS-CoV-2 e del Covid, è che noi abbiamo un virus che il collega infettivologo potrà ben illustrare. Abbiamo un virus che colpisce un po' al cuore il sistema immunitario, cioè le cellule che poi ci proteggono, tipo l'infezione, soprattutto, dell'info GDC di 4. Primo, quindi, quando tu hai questo problema con un virus di questo tipo, fare un vaccino non è facile. Secondo punto, è altamente variabile. quando noi parliamo di variazione del vaccino HIV all'interno di un singolo episodio infettante, è qualcosa di molto diverso dalle varianti di SARS-CoV-2 che si sono succeduti in mesi e in anni. Quindi, molta variabilità colpisce il sistema immunitario e quindi rende molto difficile fare un buon vaccino. Questo non vuol dire che non ci riusciremo. Questo vaccino qui che è fallito aveva un altro problema, devo dire, cioè era un vaccino con vettore adenovirale che usava un vettore adenovirale che è, diciamo, comune come adenovirus nostro. Ovviamente, nel vaccino era un vettore inattivato, diciamo che noi in grado di dare malattia. Però, noi facciamo risposta anticorpale contro quel vettore e questa risposta anticorpale potrebbe avere anche un po' impedito la efficacia del vaccino. Comunque, quello che è certo è che dobbiamo trovare nuove strade per questo vaccino e si sta cercando di farlo. Quindi, noi ci dobbiamo arrendere perché, come lei ha detto, abbiamo ancora questa, io la chiamo pandemia dimenticata, così come è dimenticata la pandemia dell'antibiotico resistenza che pur esiste e comporta gravissimi problemi nei nostri ospedali e ci sono molte cose che dimentichiamo e faremo bene a ricordarci a non pensare soltanto a SARS-CoV-2, a Covid-19. Assolutamente, per quanto riguarda l'antibiotico resistenza vorrei semplicemente fare una piccola parentesi e se prendete un antibiotico deve essere prescritto assolutamente da un medico, non prendete medicinali così come se non ci fosse un domani per un motivo molto semplice perché si chiama proprio antibiotico resistenza perché poi nel momento che vi serve non fa più effetto perché diventa non più funzionale. mi sembra una spiegazione semplice ma spero che il messaggio sia stato veicolato nel modo giusto. Allora Cera Sari è d'accordo con quello che ha detto il nostro professor Cassone? No, certamente purtroppo le malattie infettive continuano ancora a dominare un pochino il panorama medico si è creduto qualche decennio fa con la riduzione anche di alcune strutture alcuni ospedali che ormai le malattie infettive fossero state in qualche maniera debellate soprattutto anche grazie ai vaccini purtroppo non è così perché le avvisaglie ci sono sempre state io diciamo ritornando sul discorso dell'HV l'HV non dimentichiamoci che è la seconda epidemia mondiale dopo quella del 18 e posso fare una domanda mi perdoni professore perché la cosa che mi stupisce che in qualche modo ma in negativo è che in un mondo di tutologia in un mondo di informazione dove il mainstream è monodirezionato quindi come ha detto giustamente il professor Cassone qui per due anni si è parlato solo di covid ma ci sono altre 7 mila patologie di cui non si è parlato e che anzi sono state trascurate allora per quanto riguarda l'HIV sembra così non se ne parla invece qui si parla di un milione e mezzo di persone l'anno che vengono infettate tra l'altro una persona infettata a stavolta ne può infettare un'altra non c'è una promozione all'uso non so del preservativo o di quello che può essere utile per un po' di prevenzione c'è stato un boom un periodo adesso tutto sotto traccia ma come mai secondo lei? è proprio questo è un fatto probabilmente di scarsa attenzione anche da parte della stampa dei mezzi di comunicazione non fa notizia cioè questo sta dicendo probabilmente sì non dimentichiamoci dicevo che è la seconda pandemia a livello mondiale ma ci sono circa 80 milioni di persone che in una maniera o nell'altra convivono con questa patologia e alcuni addirittura non sapendo di averla io parlo nel mondo il fatto grave di questa di questa anche dimenticanza è che noi non la supportiamo con gli altri mezzi di prevenzione mi riferisco per esempio ad alcuni dati e mentre il trend parlando dell'Italia delle nuove infezioni era in diminuzione prima della pandemia e adesso sappiamo che sono in aumento e prima si parlava che erano scesi da circa 4.000 casi qui vediamo il suo libro l'AIDS colpisce ancora quindi con il famoso fiocco rosso qui si parla di AIDS un giorno l'anno ma lei si rende conto secondo me bisognerebbe parlarne in continuazione assolutamente perché non è più una patologia da persone ben individuate ma ormai prendono quasi gli eterosessuali quindi è una patologia diffusa a livello mondiale quello punto che dicevo è che mentre il trend era in diminuzione e parliamo di cifre che però erano ancora sui 2.000 casi l'anno che non sono cifre da trascurare considerando il fatto che è una malattia che come abbiamo sentito prima era notizia di ieri è stato sospeso la sperimentazione del vaccino una domanda per far capire bene da casa ma in realtà perché si parla di AIDS e tante persone rispondono vabbè comunque anche se lo prendo e comunque ci sono delle medicine che funzionano è come se fosse come se fosse un qualcosa di meno grave rispetto a anni fa non è così no soprattutto se li inseriamo come giustamente ha detto lei all'inizio della trasmissione nel discorso del benessere psicofisico della persona cioè noi non dobbiamo settorializzare la malattia nel senso che guardiamo soltanto la patologia infettiva e come curarla ma dobbiamo vedere tutte le alterazioni che la malattia porta nell'organismo non dimentichiamoci che è importante curare e non contrarre il covid perché c'è il long covid ci sono tutte le sequele che vengono come strascico dall'aver contratto la malattia c'è un ultimo recente lavoro che dimostra che alcune lesioni polmonari persistono mesi nel polmone creando difficoltà respiratoria quindi una sintomatologia clinica in assenza della presenza del virus dimostrato con reperti autoptici è chiaro che diciamo siamo di fronte e nel caso del covid a un virus sconosciuto non c'è stata umiltà da parte della classe medica di dire che non conoscevamo questo virus per cui le notizie che erano date anche contrastanti all'inizio erano dovute al fatto che ci si trovava di fronte a un nuovo virus ma questo poi è un discorso più ampio che fa parte della metodologia della scienza noi dobbiamo seguire un criterio medico di ricerca scientifica che di volta in volta va messa a fuoco comunque ad oggi professore mi perdoni quindi se abbiamo capito bene non ci sono vaccini per quanto riguarda l'HIV momentaneamente purtroppo non ci sono vaccini ci sono delle cure che fanno queste cure le cure naturalmente la cosa più importante è quella di ricostruire il sistema immunitario nel senso che il virus attacca proprio quello che è il nostro esercito quelle che sono le nostre cellule che combattono le infezioni penetra in queste cellule e le distrugge adesso con le terapie nel caso del paziente che ha contratto la malattia proprio AIDS viene ricostruito con la terapia si impedisce nuova distruzione e viene ricostruito il sistema immunitario ma questo comporta una terapia a lungo termine cioè il virus deve essere sempre soppresso quindi per capire un paziente è in cura per sempre ha un virus non esiste un vaccino quindi il virus rimane ed è obbligato a stare in cura per sempre fino a che la cura funziona certamente questo ha portato diciamo dei vantaggi sul piano sia psicologico ma anche comportamentale perché noi sappiamo oggi che una persona che ha una carica non rilevabile quindi la soppressione zero del virus non trasmette la malattia e questo è stato un grosso risultato ma non avendo adesso diciamo una risoluzione completa il paziente è costretto a prendere sempre il farmaco questo comporta anche dei controlli periodici chiaro perché sono farmaci importanti comeppure deve sorvegliare la comparsa di malattie che potrebbero essere anche conseguenza di una cioè di malattie secondarie senta un'ultima cosa poi vorrei cambiare argomento perché insomma questo è un argomento molto importante e molto interessante però ci sono tantissime persone che poi in realtà non si fanno il controllo il controllo è assolutamente semplice è un'analisi del sangue tra l'altro completamente anonima credo adesso io dicevo c'è anche per esempio dobbiamo spingere diciamo non essendoci più la disposizione immediata del vaccino dobbiamo spingere su quella che è la prevenzione è chiaro c'è la possibilità anche di un test salivare quindi noi anche diciamo a livello politico dovremmo rendere più facile l'accesso sia ai test ma anche il test per esempio quello salivare che si può fare anche a maggior parte è anonimo in modo da giocare sulla prevenzione la prevenzione è fondamentale sia per quanto riguarda la diagnostica quindi con tutti i test il più possibili accessibili cosa che non ci sono non c'è stata occasione durante il covid per molte persone ma anche diciamo quelli rapidi come potrebbe essere un test salivare a disposizione di tutti oggi ci abbiamo anche la terapia che si chiama PrEP che consente di avere rapporti prendendo questa terapia ecco quindi dovremmo agire nel rispetto proprio ma soprattutto nel rispetto degli altri sulla terapia assolutamente allora Febbi ben arrivato abbiamo fatto una serie di discorsi molto fondamentali sul corpo umano sul benessere e quindi i vaccini non vaccini possibilità di curare alcune malattie però bisogna fare attenzione bisogna essere preparati bisogna rispettare se stessi rispettare gli altri però poi c'è tutto un percorso che andremo a affrontare con lei ma anche con la Ricottini invece in cui si possono implementare aumentare le proprie modalità abbiamo parlato prima delle 3A quindi alimentazione attività fisica atteggiamento mentale questa è la prima barriera non c'è una medicina più potente credo no ad oggi ormai sappiamo benissimo che l'esercizio fisico è un grande plus che sta venendo a mancare soprattutto per un po' atteggiamento culturale un po' per la riduzione dell'attività che viene effettuata anche all'interno delle scuole ora sappiamo benissimo che l'attività fisica fa bene però spesso volentieri ci perdiamo sui parametri fondamentali quanta attività fisica fa bene che tipo di attività fisica fa bene questa è interessante allora calcoliamo innanzitutto calcolare l'età credo perché un ventenne e un cinquantenne presumibilmente avranno una possibilità differente credo no assolutamente sì ok seconda cosa quanta attività fisica perché poi ci sono tante persone io compreso per esempio che magari non sono potuti andare in palestra per x mesi di causa covid ricominciano e pensiamo ancora di avere 20 anni questo è sbagliato assolutamente sì la modalità di allenamento sia che sia di allenamento di tipo aerobico sia che sia prescrizione di allenamento con l'utilizzo dei sovraccarichi va assolutamente calibrata rispetto all'età e anche rispetto a determinate caratteristiche prima il professore parlava delle difese immunitarie nell'immaginario collettivo c'è il concetto che l'attività fisica rafforza le difese immunitarie ma dipende sempre fondamentalmente dal quantitativo e dall'intensità un'attività fisica eccessiva dal punto di vista di intensità e anche di durata tende a creare nell'immediata fine dell'attività un abbassamento delle difese immunitarie cioè se esagero all'altra domanda mi scusi perché io sono curiosissimo su questa cosa allora sport aerobico è fondamentale perché aerobico poi vai a lavorare diciamo riattivi il metabolismo fai tutta una serie di cose però chi lo può fare perché poi diciamo bisogna anche vedere se uno sta bene con la schiena la postura cioè ci sono tante cose che uno sportivo trascura poi oggi come oggi ormai le linee guida internazionali soprattutto quelle della CSM dicono che l'attività aerobica è importante ma altrettanto è importante l'attività anaerobica il mantenimento della massa muscolare cioè spieghiamo la differenza allora per allenamento aerobico identifichiamo gli allenamenti che vanno a condizionare il sistema cardiovascolare e polmonare come la corsa o gli sport di endurance per attività anaerobica intendiamo la classica attività che si può svolgere in palestra con l'utilizzo dei sovraccarichi ora il mantenimento della massa muscolare è un fattore fondamentale soprattutto con l'avanzare dell'età perché per processi fisiologici noi tendiamo a perdere la massa non guardi me con l'avanzare dell'età per corte no scherzo tendiamo a ridurre la nostra massa muscolare e quindi andiamo incontro a tutta una serie di patologie che possono interessare anche l'apparato muscolo scheletrico quindi il mantenimento di un'attività mista fra attività aerobiche e coi sovraccarichi che pare essere la chiave per il rallentamento dei processi di invecchiamento e per il mantenimento della salute dei soggetti perfetto quanta le linee guida sempre a livello internazionale dicono che bisognerebbe rientrare all'interno dell'ora di attività fisica per due o tre volte a settimana anche perché una volta a settimana tende a non essere quindi più o meno è un'ora un giorno faccia aerobica e un giorno anaerobica oppure nelle stesse giornate possono essere anche combinate tutte e due le attività sempre le linee guida a livello internazionale e la ricerca scientifica dicono che se vanno combinate prima andrebbe fatta l'attività con i sovraccarichi e dopo l'attività aerobica quindi l'attività aerobica dopo perché invece tanti ti fanno fare magari in palestra prima quello che si chiama riscaldamento invece è più efficace dopo allora il riscaldamento è un'attività a basso impatto che serve fondamentalmente per innalzare la temperatura corporea e andare a creare una sorta di fluidificazione a livello articolare che non è la parte aerobica che non è parte aerobica perfetto invece nel momento che lei poi consiglia non so i suoi studenti o fa un lavoro di questo tipo li consiglia in questa direzione quindi allena di due, tre, quattro volte però prima vedo quello che è il tuo biotipo poi ci spiegherà la dottoressa cos'è cioè come sei fatto da un punto di vista morfologico perché anche quello credo che cambia tanto assolutamente è fondamentale per la scelta degli esercizi le caratteristiche antropometriche del soggetto da dove parti quantitativo di grasso corporeo sono tutti parametri fondamentali che devono essere presi in analisi per andare a prescrivere correttamente a me piace dire somministrare correttamente l'esercizio fisico anche se poi non esiste una postura corretta o universale esistono delle caratteristiche specifiche oltre le quali non bisogna andare con deviazioni rispetto alla postura perché c'è la possibilità maggiore di andare incontro a patologie muscoloscheletriche altra domanda quanto è importante invece lavorare a postura sulla parte posturale quindi mantenersi un po' sciolti soprattutto con la crescita dell'età perché ci sono poi tante persone che non so crescendo magari fanno solo pesi o solo la parte aerobica però trascurano completamente invece l'allungamento la parte posturale che è altrettanto importante assolutamente sì noi identificavamo l'allungamento col concetto di stretching passivo ormai si va verso un discorso di mobilità attiva quindi pilates yoga o situazioni del genere che pongono la muscolatura in allungamento ma con atteggiamento dinamico che è assolutamente un metodo migliore di approcciare alla mobilità rispetto esclusivamente a concentrarsi sullo stretching passivo in quanto non c'è un controllo attivo della muscolatura e questo può essere perfettamente integrato assolutamente sì anzi è consigliato e poi lo sport possiamo dirlo crea qualcosa che è l'unica droga che potete utilizzare che è una droga benefica assolutamente sì il rilascio d'endorfine è fondamentale soprattutto per gli sport che vengono considerati sport aggregativi come la corsa o come le situazioni che possono essere sport di squadra dove c'è una soddisfazione a socializzare con altre persone e dall'altra parte c'è anche un effetto benefico mentale che non è poco in questo periodo mi perdono abbiamo passato un periodo due anni due anni e mezzo tutti esauriti un po' di sport credo che sia assolutamente fondamentale ma sempre seguiti poi da professionisti e soprattutto non trascurate la parte fisioterapica perché quella credo sia essenziale che ci vuole poco che faccio sport e invece mi faccio del male assolutamente sì oltretutto andando prevenendo da questo punto di vista con un lavoro coordinato dal fisioterapista dall'osteopata ma anche dal preparatore atletico stesso si può fare un'attività preventiva oppure una strategia conservativa delle patologie muscoloscheletriche che mi permette di curarmi ma di poter proseguire anche la mia attività sportiva che quello funziona molto di più di una chirurgia plastica tra virgolette da un punto di no lo dico proprio con sincerità allora abbiamo parlato di biotipi e più di una volta la dottoressa Ricottini ci ha spiegato esattamente cos'è il biotipo ed è una cosa molto interessante talmente interessante che poi sono andata a trovarla per chiedergli delle specifiche in merito e lei lavora proprio sul biotipo allora facciamo questo esempio perché anche Febbi ci ha detto poi è fondamentale fare un lavoro su come siamo siamo tutti unici tutti belli in qualche modo nelle nostre diversità lui vede una persona la studia e magari gli può segnalare quello che potrebbe essere l'allenamento funzionale per quella persona la dottoressa invece lo studia e gli dice gli segnala gli propone quello che invece è qualcosa da un punto di vista alimentare e mentale sì vado prego allora intanto sono molto contenta che ho sentito citare la parola dinamico perché il concetto di dinamismo e di movimento è la vita ed è il grande segreto della capacità di adattamento all'ambiente il biotipo è antico come concetto è stato mantenuto negli ultimi anni soprattutto in ambito sportivo perché hanno selezionato sul concetto di biotipo somatico anche gli atleti per orientarli allo sport la grande possibilità che ci offre è di associare a questa struttura quindi a dei parametri antropometrici in realtà delle predisposizioni degli assetti genetici che ci sono dietro che tecnicamente potremmo definire anche dei polimorfismi cioè delle caratteristiche di piccole mutazioni individuali che però portano magari alla sintesi di un enzima di una certa competenza però mi faccia capire io vengo in studio da lei entro in studio faccio talk talk dottoressa come sta parliamo due chiacchiere lei parliamo una mezz'ora perché lei approfondisce e cerca di capire quella che è un po' la mia storia perché poi siamo quello che siamo stati questo va assolutamente detto è una priorità che penso tutti i professionisti dovrebbero in qualche modo chiedere a quel punto lei studia come sono fatto io da un punto di vista il mio biotipo ecco per usare il suo termine studia quello poi allora intanto io nel mio approccio essendo un medico tengo conto di questa storia che noi chiamiamo anamnesi familiare addirittura andiamo a vedere dalle malattie dalle tendenze che ci sono in famiglia poi vado a indagare vado a chiedere informazioni su quelli non solo che sono i tratti patologici le caratteristiche anche familiari ma quelli che sono dei gusti personali perché anche la ricerca di un alimento ci può indicare ad esempio un punto di debolezza o un bisogno che l'organismo esprime nel cercare un cibo piuttosto che un altro valuto sia da un'osservazione diretta che con domande come si comporta la persona rispetto all'ambiente e la sua capacità di rispondere agli eventi stressogeni agli stress perché ciascuno di noi ha una capacità diversa in base al proprio biotipo di reggere carichi di stress posso fare una domanda io ho un ricordo di uno dei primi medici che frequentavo con grande affetto che una delle prime cose che faceva quando andavo in studio mi guardava dentro l'occhio mi guardava qua vabbè mi controllava i polmoni mi controllava il battito mi guardava lo stato della pelle faceva dei controlli molto quelli tanti professionisti li hanno persi però io ho la fortuna di essermi formata prima che la tecnologia dissaccasse l'occhio è tanta roba la cosa è complessa ma sicuramente noi oggi abbiamo delle capacità di diagnosi che si avvalgono di apparecchiature di esami di laboratorio si è perso un po' il contatto con il paziente perché quello è l'aspetto semiotico per esempio dall'occhio uno può vedere l'irrorazione comunque la concentrazione di emoglobina la pelle sia dal colore che dalla consistenza ci dice molto l'osservazione della lingua anche sull'intolleranza ci dice la pelle esatto sull'intolleranza ci può dire anche l'alido e l'intolleranza non è vero che non esistono perché sono descritte in medicina la differenza tra l'intolleranza e l'allergia che l'allergia coinvolge un aspetto immunitario l'intolleranza riguarda l'aspetto più digestivo ed enzimatico e quindi l'infiammazione che può portare uno stato infiammatorio anche perché la maldigestione altera la flora intestinale e oggi si sa quanto è importante questo aspetto per il mantenimento del benessere e l'equilibrio psicofisico proprio perché noi siamo un insieme non è che una psiche calata in un corpo la psiche è l'espressione del nostro corpo ce lo dicono i neuroscienziati ce lo dice Damasio addirittura ha introdotto il concetto di emozioni come fattore evolutivo e una volta fatto questo questo passaggio questo studio del biotipo lei che fa consiglia la persona o almeno cerca di capire quelle che sono le sue intolleranze e abbassa o cerca di abbassare gli stati infiammatori con dei rimedi sì allora intanto individuare il biotipo mi permette di comprendere proprio perché ipotizzo cioè la nostra tesi suffragata poi dai dati di laboratorio e da delle ricerche che alcune sono proprio in itinere che a un certo assetto fisico corrispondano dei metabolismo chiaro molto banalmente si sa con la sindrome metabolica certe costituzioni che accumulano sull'addome hanno un disturbo dell'insulina la famosa insulino resistenza ora quella persona mi parla già di una necessità di controllare l'apporto di glicidi ma negli anni ho anche potuto vedere chi ha una maggiore predisposizione a un'intolleranza al lattosio piuttosto che a una glutensensitivity chiaramente si richiedono sempre esami ufficiali di conferma e poi l'informazione ci permette anche di valutare delle scelte sia farmacologiche poi lì il medico può scegliere la farmacologia ufficiale la nutraceutica oggi è molto importante con integratori mirati si possono veramente modulare molte funzioni metaboliche sappiamo per esempio che l'inositol è un grande modulatore del metabolismo degli zuccheri e molte volte ci può risparmiare dei farmaci chimici più importanti per dirne una posso dare dei drenanti fitoterapici io uso anche l'omeopatia soprattutto nella prevenzione ma anche il tipo di sport possiamo supportare questo aspetto più si va avanti con gli studi genetici più si scopre che c'è questa correlazione tra l'aspetto fisico questo è molto bello lo andremo a approfondire domani perché sono argomenti assolutamente interessanti velocissimamente mi scusi che l'ho trascurata a diario Sportivi per Roma in un minuto cos'è poi domani ce lo spiega in modo importante con piacere Sportivi per Roma è un'associazione alla quale aderiscono 150 soggetti che praticano sport quindi gestori di impianti di palestre e fondamentalmente ecco quindi quello di cui si occupa questo sodalizio è la promozione dello sport quindi parliamo di un vasta platea di soggetti che fondamentalmente fanno attività di tutti i tipi cioè dall'agonismo una diversità esatto dall'attività agonistica allo sport di base appunto i grandi impianti i grandi palazzetti o le piccole palestre scolastiche diciamo per Sportivi per Roma in qualche modo lei è d'accordo con quello che ci dicono i nostri professionisti cioè che ogni persona magari dovrebbe prima fare uno studio e poi essere avventurata verso un mondo di sport A, B, C, D, E, F, G sì assolutamente e anche ecco il concetto che lo sport in generale fa bene ma bisogna stare attenti a come lo si pratica quindi ogni età e ogni fisico ha bisogno del suo sport per fare un esempio una persona che pesa 80 kg non può pensare di fare una maratona con le scarpe del keniano che pesa 40 perché si farebbe male alla schiena anche le scarpe è una cosa fondamentale mi ha dato uno spunto domani Febbi parliamo anche di quello perché credo che sia fondamentale purtroppo devo salutare io starei altre 4 ore a parlare di queste cose perché mi fanno veramente impazzire ma il tempo è tiranno ci vediamo domani a domani a domani a domani Roma Multiservizi S.P.A. Da oltre 25 anni garantisce altissimi standard qualitativi e di sicurezza per il settore pubblico e privato. Operiamo nelle scuole, negli asili, in aree verdi ed edifici con servizi di sanificazione, assistenza, pulizia, igiene, manutenzione, sicurezza e agibilità. Siamo l'azienda leader nei servizi integrati con il 97,5% di soddisfazione del cliente. Contattaci sul sito romamultiservizi.it Roma Multiservizi, la nostra professionalità al vostro servizio. The Building, hotel quattro stelle al centro di Roma, presenta Gourmands, ristorante immerso in un'atmosfera avvolgente e suggestiva, dove gustare il meglio dei sapori mediterranei. Un'ampia scelta di cucina internazionale ed etnica, con materie prime di ottima qualità, magistralmente interpretate dallo chef Andrea Kossalter. Ristorante Gourmands, presso Hotel The Building, in via Montebello, 126, Roma. How can I try to explain, when I do, he turns away again, it's always been the same, same old story. Grazie a tutti.